Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, il nuovo episodio della serie di Genshin Impact Allora prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non è fatto Mi raccomando attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video Non solo di Genshin ma anche di tanto altro E lasciate un bel like per supportarmi che fa sempre piacere, commentate e condividete il video al canale Allora andiamo avanti un pochino con raccontare un po' di cose Allora partiamo da questo evento qui che non ricordo se avevo mostrato sinceramente Ma lo faccio vedere di nuovo Attualmente ho fatto tutte le sfide, ho preso le ricompense tranne la sfida potenziata perché non mi interessa come ricompensa Il luogo della sfida è qui A Mondstadt Pensavo alla città invece e tutta la regione Per un attimo ho avuto un lapsus, basta andare qui per trasportarsi Si giunge a questa specie di leyline rossa La si attiva e si sceglie contro chi combattere Allora facciamo qualcosa di semplice e veloce Tanto sono tutti semplici Da qui selezionate la difficoltà Visto che è il video non voglio che diventi lunghissimo Faccio la più banale E allora si comincia con l'attacco dei mostri E bisogna completare in questo caso la challenge in 108 secondi Ovvero Inizio la challenge in 108 secondi Ok Coprire Anzi uccidere un po' di scartine Poi arrivano i due avversari potenti Per battere Dopo aver preso tutto tutto di avversari Qui le cose adesso sono semplicissimo Ho scelto la difficoltà minore Giusto per far vedere come funziona E da qui dopo riscattate la vostra ricompensa Poi abbiamo un altro evento Questo qui Che dura anche altri 5 giorni Così come Lidenstrip Se l'ho detto giusto Reminiacent Regiment Che è una serie di challenge Ho fatto solo la prima per ora Andiamo a vedere la seconda insieme Teleport Se posso teletrasportarmi direttamente E vediamo La prima sfida era in co-op Quindi andando online Giocando con altri giocatori La seconda adesso staremo a vedere Dov'è che devo andare Esatto Qui Prendiamo la seconda Queste sono categorie diverse Allora se ho capito giusto Queste sono dall'alto Bisogna mandarsi giù E recuperare Batteri nemici Recuperare monete e batteri nemici Questa sarà tipo Gara di corsa E questo non ne ho idea Corsa con la barca intendo Andiamo a farne una Dopo vediamo in caso Accettiamo Non importa Qua Con chi Andremo a giocare Eccoci qua Non so se tenere Ah si Tengo Xiao e Amen Adesso abbiamo il cooldown Di altri 35 secondi Praticamente Eccoli qua E Noi qua Trovemo scendere Fino al livello più basso Dove ci aspetta Il gran finale Raccogliendo Monetine Giganti Praticamente E sconfiggendo Dei nemici Siamo Tutti insieme E E Niente Faremo la La sfida in coop Molto carina come cosa Almeno L'altra che ho fatto È stata carina Niente di trascendentale Eh ragazzi È molto molto semplice Easy Non c'è da preoccuparsi Assolutamente Vediamo Da che parte Dobbiamo scendere Da di qua Tac Tac Adesso basta arrivare qui Fare piazza pulita Dei mostri Abbiamo un personaggio solo Perché se non è proprio da contro Abbiamo un personaggio solo a testa Ok In questo caso Xami è stato utile Per Precedere I miei compagni Adesso andiamo Nelle pedale sotto A sconfiggere i nemici Ci diamo tutti un po' Una mano A vicenda Ok È morto? Sì In teoria Ok E adesso Scendiamo giù Recuperando più monetine Possibili Tac Ci fanno fare punteggio Mi sa Tac Combattiamo E c'è Una cosa Molto Molto Easy Un po' Sprecciata Questa Non è un percorso Ma non importa Mi prendo L'avversario Più lontano Sto giro Giusto per Precipitiamoci Da sopra Tac In un colpo solo Mamma mia Per un pelo Sono un po' Di morto Ok Andiamo Verso L'ultimo Ok Piattaforma Centrale E qui mi sarebbe servita La final Ah Qualcuno mi ha preceduto Accidenti Challenge Completa Allora Io cosa ho avuto Treasure Nick Rimane Stoke Gradient 18 Ok Poi anche gli altri Ne ho avuto altre cose Questo è il mio punteggio Adesso finisce lo stage Io l'evento Un po' di tocco Bene Cop terminata E poi ci sono le Le altre sfide Che non le faccio vedere Altrimenti il video Diventerebbe Lunghissimo Cosa che non voglio Vediamo un po' Eh Sì Sono riuscito a fare Le prime due Che sono le più importanti Perché ci sono le prime Gems Ho cominciato Sono andato un po' avanti Ho comprato già La corona Che è la cosa più importante Dell'evento da comprare Per potenziare I talenti Dei personaggi Eh Ho completato Il Mr. Heels Foggy Valleys Eh Potrei farvelo vedere Un attimo Giusto per Eh Questa è una quest Lunga Che Parla di Di Cazzo E dovrete Recuperare I vari Manufatti In giro Eccetera Da poco Si può Settare Un po' Come si vuole Comunque Eh Vedetti Questa non me la Mi manca una cosa Da scoprire Qui ad esempio Interessante Eh comunque Poi Fatta la missione Diventa Un'arena Dove combattere Un paio di volte In questa dimensione Molto particolare E Niente La missione Un po' Labirintica Magari All'inizio Non si capisce Molto Ci si può Arrivare Anche senza Leggere Le robe In inglese Comunque ho fatto Io Le ho le E la prima volta Che l'ho aperto Ho fatto un gran casino Perché non capisco Un ciuffolo Cos'altro c'è Di questo evento Vediamo Le corse con la barca Sono le solite E questa Devo ancora sbloccarle Per via della quest Le paro con molta 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 calma Ehm Papara Allora Vi faccio vedere Che Tanto Convertiamo Qui Le primo Gems La posto Ho 86 salmon Narcobaleno Questo è il nuovo Banner Con io Emilia E i 4 stelle Che non pullerò Perché non Non mi interessa E Non ricordo Se c'era già L'altra volta L'ultimo video Che ho fatto Non credo Queste sono le armi E questo è al solito Pull Ho fatto una pull Da 10 Ovviamente Non ho trovato niente Staremo a vedere Con la prossima Ehm Ho magari La prova Di questo personaggio A disposizione Test run Ok Ho già fatto Forse ve l'ho già Fatto vedere Però giusto per In caso lo rifaccio Perché magari L'ho rifatto Cioè L'ho fatto per conto mio Senza pensarci Perché Pensavo di averlo Già fatto vedere Ma sicuramente Ve l'ho fatto vedere L'altra volta Quindi Quando è venuta fuori Per la prima volta Io mi miglio Comunque Non è un problema Tanto il combattimento È piuttosto veloce Nooo Mi sono fatto colpire Ah è vero C'è anche Mi stavo dimenticando Che sono 3 In questo momento Mettiamo scudo Chiediamo un po' di lei Facciamo Così No È una buona combinazione In effetti Quando parte la Final Mixing C'è lo scudo C'è lo scudo Di Noelle Per proteggerlo Ma poi Se Va Uccidere I miei amici E lei può Continuare A tirare Adesso Prima Facciamo la Combo C'è L'ultimo Unico Qua Ma non Mi piace L'animinio Come personaggio Sicuramente Da giocare Tutto È carino Ma Non Mi interessa Averlo Challenge Completa Usciamo Per quanto riguarda Gli ultimi Due Quattro Stelle Che ho Alzato Di livello Posso dirvi Che Cookie L'ho già portato Al 70 Mi mancano Le ultime cose Qui Del boss Anzi Dovrei andare A farmare Questo boss Così da portarla All'80 Anche Hazel L'ho portato Appunto A 70 Devo andare A caccia Di ogni Cavuto Se vuole Un secolo E poi Sempre il boss Ma il boss È una Cavolata Da fare Inoltre Ho risistemato Gli artefatti Di chi Aspetta Non mi ricordo Se erano i suoi Quelli di Chongion Forse i loro Quattro artefatti Ne ho potenziati Alcuni E sostituite Altre Così da Andare meglio Nello Spiral Abyss Che sono riuscito A non andare Più Più a fondo Di solito Se non Vado Arrò Vediamo Spiral Adesso mi mette 8 3 Perché si è Resettato Comunque Era un dato Molto più avanti Quasi all'ultimo Mancava poco Ragazzi Per questo video Per questo episodio È tutto Vi ringrazio Tantissimo Per la visione Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto Noi ci vediamo In un prossimo video E in un prossimo episodio Di Genshin Impact Ciao